Ciao a tutti! Oggi siamo in Piemonte, in Val di Vedro, al confine con la Svizzera. Vi faccio vedere un giro ad anello che parte da Iselle. Questo sentiero si chiama il sentiero degli scagnol che sono degli scalini ricavati dalla roccia viva, sono circa 250 da cui passeremo e viene chiamata anche della fece e del contrabbando. Della fece perché dai larici lungo il percorso si estraeva la resina da cui dopo cottura si otteneva la fece per diverse lavorazioni e del contrabbando perché essendo al confine con la Svizzera veniva utilizzato dai contrabbandieri per integrare l'economia locale. È un sentiero molto interessante, è da inizio anno che avevo in mente di percorrerlo, soltanto che per via degli scalini e di alcuni tratti esposti la presenza di ghiaccio e neve lo rende difficoltoso e quindi ho aspettato un po'. Io ho posteggiato l'auto a Iselle appena arrivato in paese in uno slargo sulla sinistra, dopodiché ho proseguito sulla strada asfaltata principale che va verso il Sempione per circa due chilometri, ho attraversato una galleria, dopodiché sulla destra inizia il percorso. Buona visione! si inizia così. Qua siamo a Balmoreglio, 714 metri sul livello del mare, il sentiero prosegue sulla destra. Il sentiero da subito sale deciso, si vede un po' alle mie spalle, bisogna prendere il ritmo giusto e salire. Alle mie spalle inizia il passaggio, c'è la targhetta che indica passaggio dello scagnol, siamo a 900 metri sul livello del mare e questi sono gli scalini che salgono, è un po' la scala di Mordor, non so se avete presente il Signore degli Anelli, c'è un po' più di luce però qua. lì si vede la strada da dove sono partita, quindi si sale già bene. Anche qui è bello selvaggio, c'è un'altra parete, bella ripida, da cui scende acqua e l'erba che mi accarezza un po', però nasconde anche il sentiero, quindi bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Qua ci sono sempre delle catene che aiutano il passaggio, perché adesso si passa lì al centro e poi c'è un'altra scalinata, lì si va su così. Guardate che meraviglia. Sono arrivata a Revora Stagna, vera stagna, è segnato. Sono a mille metri. La prossima tappa è cima ai campi che danno per un'ora e dieci. Comunque è incredibile pensare che i contrabbandieri portavano zaini pesantissimi e facevano questo sentiero anche in pieno inverno, quindi perché era per necessità, non per una semplice passeggiata come sto facendo io. Qua proseguo, sempre dritta, cima ai campi 55 minuti. Adesso sono uscita un attimo dal bosco e sono arrivata a quest'alpe e proseguo su di qua. Dopo circa 4 chilometri sono arrivata all'Alpevaldo, siamo a 1250 metri. Da qua c'è una vista davvero meravigliosa. Sì, ma i campi 25 minuti. Bello. Basta sotto in mezzo queste vecchie baite. Adesso sto proseguendo proprio in mezzo ai prati. piavelle. Non fanno niente. Poveri, poi sono sempre pieni di mosche, che fastidio. Belle che siete. E niente, si continua a salire sempre in mezzo a questi bellissimi alpeggi. Qua c'è un altro pannello esplicativo, come quello della partenza, ma sono molto meglio. Lì c'è una strada che diventa asfaltata. I cartelli indicano bugliaga 25 minuti, trascuera 1 ora e 15. Io invece vado su di qua, cima ai campi 15 minuti. Proseguiamo. Dopo circa 4 chilometri e mezzo, sono arrivata alla cima ai campi, che supero tenendomi sulla sinistra. E adesso sto continuando a salire verso la balma, che danno per mezz'ora. Il sentiero è sempre ben segnalato, qui segna via bianchi e rossi. L'animale più spaventoso che ho incontrato oggi, una pantera nera. Dopo essere passata dai vari pratoni, si ritorna nel bosco di Larici. Anche qui sale bene. Dovrei essere arrivata alla balma e adesso, ecco, ci sono dei cartelli. Allora, bugliaga 40 minuti, trascuera 1 ora e mezza. Anche qua c'è un bello trattore. Alpe-balma 1570. Sto studiando un po' la mappa. Adesso sono alla balma, sono passata da cima ai campi. E di fronte, non so se questo... Questa è la cima-gezza. Questo è il dosso. E pizzo di mezzo dietro un po' le piante. Se fosse così, più o meno, dietro qui dovrebbero esserci i laghi del Paione. Ed è la Val Bognanco. Il sentiero sembra sia di qui, in mezzo alle ginestre, ma vediamo un po'. Anche qua è una giungla. Però sembra esserci una traccia. Boh, non trovo più nessuna traccia, però lì c'è un alpeggio, quindi provo a scendere a vedere se mi ricollego a qualche sentiero. Adesso sto facendo la direttissima nel prato a scendere verso queste baite, ma ormai sono quasi arrivata. E su un muro c'è una segna via bianco-rosso. Quindi alla Balma, probabilmente dovevo addentrarmi in mezzo alle ginestre, ma poi invece di salire tra i larici, stare nel prato. Però non ho visto segna via, anche perché qua, insomma, questa è la situazione. Eccoci. Eh, che bello quando si ritorna sulla retta via. Ecco, segna via. Sì, praticamente l'alpe e la Balma restano dietro in fondo a questo pratone. E adesso vediamo di trovare la strada per Bugliaga. Allora, adesso ho trovato una strada che va abbastanza pianeggiante. Penso sia quella giusta. Beh, di sicuro da qualche parte porterà così. Bene, c'è un cartello che indica Bugliaga, qua a destra. E continuando a scendere dopo circa 8 chilometri sono arrivata a Bugliaga, 1314 metri. Adesso mi fermo a mangiare. Qua c'è la chiesa. Pausa pranzo davanti alla chiesa. Comodo perché c'è il poggiolino. Beh, il poggio a piedi io non ci arrivo però perché è tanto alto. Questa è la vista. E questo è il cibo. Pasta pomodoro con burger un po' spatasciato. Diciamo che non punto sull'impiattamento ma sulla sostanza. Prossima tappa trascuera 50 minuti. Ho proseguito per qualche centinaio di metri in direzione Bugliaga su questa strada asfaltata fino a trovare sulla destra questo cartello che indica Ponte del Diavolino. Adesso io scendo da questo sentiero. Per indicare un po' la direzione ci sono frecce rosse e blu e bolli rossi e blu. Il sentiero prosegue così. Ci sono degli alberi caduti. Però si vede anche la traccia che prosegue più avanti. E' proprio stretta. Fa impressione. Come di essere fuori dal mondo. Qua c'è un tratto con un cavo d'acciaio perché in effetti anche adesso le rocce sono tutte bagnate. e bisogna fare attenzione. Si continua a scendere, il sentiero fa diverse curve stretto e ripido quindi bisogna fare attenzione. Si prosegue fino ad arrivare al Ponte del Diavolino. Eccolo qua. E' un ponte a schiena d'asino. Avevo visto delle foto e incute, un certo timore. Le foto che avevo visto io erano senza le protezioni laterali. Quindi diciamo che queste danno un bel senso di sicurezza. Da qua non rende l'idea. Adesso mi sposto per far vedere un po' com'è. E da lì si dovrebbe vedere il fratello maggiore, diciamo, il Ponte del Diavolo da cui passa la strada asfaltata che da Bugliaga porta a Trasquera. Ma immaginatevi questo ponte in inverno con neve e ghiaccio senza protezioni, con uno zaino da 30-40 kg. Mamma mia! E adesso comunque ci sono tutti questi pali e tutti i cavi d'acciaio a dar sicurezza e protezione. Ma non so fino a quanti anni fa non c'era niente. Facendole al contrario si vede così. Io sono arrivata da qua. C'è una freccia rossa, un palo più o meno che indica il bivio. E proseguo scendendo. Quando vedete questo muretto c'è un buon segno, credo, perché... Andiamo. E si ritorna su strada asfaltata. Praticamente dopo il ponte il sentiero riprende a salire, ma più dolcemente, e in tanti tratti si passa mezza costa, quindi è pianeggiante. Si prosegue fino a tornare su strada asfaltata. E anche qua è indicato il ponte del Diavolino. Adesso proseguo per Trasquera. Io sono arrivata dalla strada lì. Ho salito un pezzettino a Trasquera e danno dieci minuti. Praticamente sono nel sentiero parallelo alla strada sotto asfaltata. Che bello, ho appena incontrato la signora Rita, che ho conosciuto adesso, con la cagnolona Lea, che stava cercando le capre, però non le ho viste, e mi ha raccontato che a giugno c'è stata una gara di corsa che passava dal ponte del Diavolino. Per quale hanno sistemato i sentieri e non so se hanno messo per quell'occasione tutte le protezioni sul ponte. Ecco, penso sia Trasquera. Sono scesa verso la scuola e il municipio, che si vedono lì al centro di fianco della chiesa, e qua ci sono le indicazioni per Iselle un'ora. Adesso sto facendo la mulattiera, che però per il momento è asfaltata, verso Iselle, e voglio salutare il signor Carlo, Stefano e Giampiero, che ho appena incontrato, ci siamo fermati un po' a chiacchierare, e mi hanno spiegato anche le cime, che adesso vi dico bene quali sono. Allora, quello è il pizzo del Mezzodì, questo è il pizzo rovale, ma dagli abitanti di Trasquera viene chiamato questo, pizzo di Mezzodì, perché il sole è qui a mezzogiorno. Poi c'è il pizzo gezza, e il dosso, e dietro, che non so se è questo o rimane più indietro, il pioltone. Questa escursione è iniziata con gli scalini, e finisce anche con gli scalini. Adesso, è proprio bella la mulastiera, e ben segnalata. Caspita, che qua va giù bene. Lì è la stazione di Iselle, e la strada che ho fatto questa mattina. Ormai sono quasi giù. Continuando a scendere, sono arrivata a Pianezza, 815 metri, sul livello del mare, di qui, se si va a destra, si va verso Iselle, danno 25 minuti, se si va a sinistra, si va verso Iselle stazione, mezz'ora. Io vado verso Iselle. Qua non c'è scritto da nessuna parte, ma in internet ho letto che questo sentiero fa parte del sentiero del Kirsch, che era un liquore, un tempo commercializzato dai trascueresi, di cui poi cercherò notizie, perché sono curiosa. Sono arrivata a questo ponte, ma non mi sembra eccessivamente stabile, e quindi provo a andare verso la cascata, a vedere se si riesce a guardare il fiume da quella parte. Però no, anche qua c'è una sorta di ponticello in pietra. Sì, hanno fatto un passaggio... No, no, si passa bene, guarda qui. Ecco la chiesa. Ed ecco il posteggio là in fondo dove ho lasciato la macchina stamattina. E dopo circa 14 km sono tornate Iselle. Se avete dubbi, suggerimenti, curiosità, scrivete pure nei commenti. Ci vediamo domenica prossima con un nuovo video. Spero che questo vi sia piaciuto. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.